Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo look sui toni dell'oro e del marroncino con queste labbra belle e luminose. Ho usato anche qualche produttino nuovo, la base non la vedrete perché ho realizzato un video a parte e sto parlando di questo fondotinta nuovo Yves Saint Laurent. Per il resto vi lascio giù scritti tutti i prodotti come sempre, qualche foto alla fine del video. Fatemi sapere se vi piace, scusate i capelli ma li ho appena asciugati e sembro una scopa. Sto evitando piastra perché come vedrete sono già con il condizionatore acceso, fa già troppo caldo per i miei gusti. Vi lascio subito alla realizzazione, ci vediamo al prossimo video, ciao. Allora, base è già fatta, ho utilizzato il nuovo fondotinta di Yves Saint Laurent, vi ho fatto il video a parte, adesso non so quali caricherò per primo, vi lascio comunque il link giù. Questo trucco è sui toni dell'oro e del marrone. Allora, utilizzerò la Chocolate Bar della Too Faced, così ripeschiamo un po' anche le palette. Vado a prendere questo primo colore che è un panna, lo applico sotto l'argata per illuminare. Il pennello è di Zoeva 220. così. Vado poi a prelevare con il, questo è di MAC, il 224, questo per sommature ampie, vado a prendere questo, questo marroncino, lo applico sulla piega e faccio la mia sfumatura dell'altina. Così. Poi vado a prendere questo ombretto di Dior che fa parte degli ombretti di Mono, ed è il 616, questo qua. Lo prelevo con un pennellino, questo è di Essence, lo prelevo prima asciutto e poi ne metterò un po' bagnato. lo metto, bagno un po' il pennello. Utilizzo anche le ditta. Purtroppo cadono un po' di brillantini, ma è normale, con colori così. sovietta. Caduto di tutto e di più. Ecco qua, recuperato quello che è caduto. Adesso prendo un marroncino un po' più intenso, con il 15 di Diego Dalla Palma. prendo questo marrone qui, che è un po' più scuro, mi concentro sulla parte finale, così. e lo porto anche un po' sulla piega. Mi fermo così e casomai lo intensifico dopo perché voglio applicare la matita marrone. sono dimenticata di dirvi che come primer ho utilizzato questo di Too Faced. L'avevo utilizzato diverso tempo fa. Mi era piaciuto, però preferisco l'altro di Urban Decay, il Premier Potion. Adesso applico la matita e la vado a sfumare con un pennello a penna. questo è di Zoeva, il 230, questo qua. Allora, la mia matita non partirà dall'inizio della rima, ma a metà. e poi la vado a sfumare aiutandomi con l'ombretto marrone che ho utilizzato nell'angolo esterno. quindi sto proprio attaccata alle ciglia e sfumo questo tratto di matita. la matita la applico anche nella rima sempre però diciamo concentrandomi sulla parte finale. sporco anche un po' le ciglia. e poi vado di nuovo con il pennello a penna e sfumo anche qua. ok, adesso intensifico un po'. riprendo di nuovo il marroncino chiaro e non vi metto qua. e un po' quello scuro qua nell'angolo esterno. invece nell'angolo interno sono andata a prendere uno degli illuminanti di Nabla che si chiama Jasmine. questo qua e l'ho messo con un pennello a penna. si. così. poi come mascara ho utilizzato questo di make up forever, una new entry, questo è waterproof, vediamo un po'. acqua smokey lash. lo provo insomma a voi per la prima volta. direi che le separa benissimo. lo scopurino mi piace. e lo applico anche sotto. ok. allora poi devo provare sempre con voi questa, troppo bellina, questa micro terra di Benefit, la Hoola, fatta così. questa scatolina in cartone. all'interno c'è un micro pennellino, fa troppo ridere, troppo troppo carino. la provo con voi. vediamo un pochino. una bella scrivente. anche il pennellino non è male. dopo sfumo. poi riprendo un pennello un po' più grande. prendo una terra. vediamo di non fare casino qua. perché non mi sono organizzata prima. vediamo se riesco a prendere senza far cadere niente. sì, questa di Dior. con un pennello così, questo è di Neve. scaldiamo un po'. scaldiamo un po'. ok. cos'altro volevo provare con voi. ah, metterò l'illuminante e rimetto di nuovo questo di Nabla. Jasmine. il pannello chiuso sempre io. non si vede bene. e come blush. e come blush, vediamo un pochino. come blush vado a prendere questo di, insomma, di Zoeva. ok. andiamo a scegliere il rossetto. allora, dopo aver passato dieci minuti a cercare qualcosa, il risultato finale è questo. e ho utilizzato questo nuovo prodotto di Estée Lauder. il numero 02. fa parte dell'ultima collezione. ed è fatto in questo modo. qui ha il suo rossetto. e sotto ha il gloss. non ho una matita abbinata a questo. quindi mi sono, diciamo, un pochino ingegnata a trovare qualcosa di simile. ho iniziato prima con... mi viene da ridere perché ne faccio sempre queste cose. la ballerina di Neve. però era troppo chiara. quindi ci sono ripassata sopra con questa di MAC che si chiama Trust in Red. e diciamo che abbiamo salvato la situazione. questo gloss ha un profumo... ottimo. e niente. questo è il look finale. 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 fatemi sapere se vi piace. io lo trovo carino, bello luminoso, estivo. vi ho fatto, insomma, anche vedere qualche prodottino nuovo all'opera. vi farò sapere come appunto si comporteranno questi prodotti. li vedrete anche magari in altri video. io adesso vi lascio e vi mando un bacione. ciao! 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 ciao!